Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale della mia cucina. Io sono Adriano e preparerò due ricette la settimana, il martedì e il giovedì. Oggi preparerò una mini cake al cocco. Seguite la ricetta. Ciao! Iniziamo a mettere 6 grammi di gelatina in un piatto con l'acqua fredda. In un pentolino mettiamo 130 grammi di latte intero. Accendiamo il fornello e facciamolo riscaldare. Serviranno 300 grammi di ricotta. Ora prendiamo la gelatina, la cola di pesce, e la mettiamo dentro al latte caldo. Strizziamo e mettiamo. Mescoliamo subito. A questo punto nella ricotta metteremo 50 grammi di cocco rapè, farina di cocco, il latte caldo che abbiamo fatto con la cola di pesce. Mescoliamo bene. Un cucchiaio di miele. Mescoliamo. Mettiamo anche 50 grammi di nocciole. Mescoliamo un po'. Ho rivestito una ciotola con della pellicola e ora verso tutto il composto dentro. E' una mini cake al cocco, non è grandissima. Scriviamo con della pellicola, così. E mettiamola in frigo. Quando sarà solidificata la gireremo e la assaggeremo. Ecco qua, dopo essere stata in frigo 3-4 ore, io lascio 4 ore. Ora possiamo aprire. la carta, la pellicola, la rovesciamo in un piatto e la assaggiamo. Ecco qua. Togliamo la pellicola. Mettiamo la pellicola. Delicatamente. Così. Così. Mettiamo. Mettiamo dello zucchero al velo. Così. Ecco. Spargiamo di cocco rapè. In questo modo. Eccola qui. Ora tagliamo e assaggiamo. Allora. Vediamo. Vi vedo. Sì. Assaggiamo. Mmm. Se vi piace il cocco, questa mini cake è buonissima. Mmm. mmm. Che buona. Con 5 ingredienti farete questa buonissima mini cake. Mmm. se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettete un commento ciao alla prossima ricetta